Ciao ragazzi, c'è quasi un mal di testa a commentare Cosenza a Bari 4-1, un'altra prestazione imbarazzante del Bari, per me si devono vergognare per come approcciano le partite, andiamo sempre in svantaggio al terzo minuto, quindi nemmeno un po' di attenzione nei primi 10-20 minuti, dopo 20 minuti eravamo già sotto di due gol e affrontare una partita del genere è assurdo. Poi è venuto fuori il Bari, è venuto fuori bene, abbiamo dimostrato di essere più forti nel Cosenza tecnicamente, Ben Ali ha preso in mano proprio tutta la partita, sopraffino dal ventesimo in poi, è come se il Bari non riuscisse a giocare se non in svantaggio. Quando siamo sotto di uno o due gol siamo più al nostro agio per giocare, io sono molto triste e rammaricato, gli anti-Bari saranno contenti, però noi andiamo avanti per la nostra strada e vediamo come si mette. Dicevo Ben Ali è salito in cattedra, poi c'è stata questa tiritera di Ben Ali, Ricci, Maita, Ben Ali, Ricci, Maita, Maita, Ricci, Ben Ali, questi scambi ripetuti. Devo dire che la formazione iniziale mi ha convinto di mister Giampaolo, non mi hanno convinto i cambi perché si vedeva che a ramo in mezzo al campo era di una dimensione superiore, ha fatto il filtrante per i gol di Nassi del 2-1. A fine primo tempo si poteva spingere un altro po' e comunque apprendeva a farli, non ho capito mettere Morachioli che è un ragazzino, partite così importanti. Secondo me la squadra è stata un cambio per regalare ancora vantaggio ai nostri avversari, non facciamo altro che regalare ancora vantaggio ai nostri avversari. L'esclusione di Marino è stata sbagliata perché abbiamo sempre messo fardelli pesanti su questa squadra e sui giocatori perché Marino non aveva un passo da playoff, non aveva un passo da playout nemmeno da retrocessione, adesso siamo in piena retrocessione, quindi è stato un errore a togliere Marino. Sulla gara noi abbiamo fatto 3 tiri in porta, quello fondamentalmente non vediamo, vediamo malissimo la porta, 8 tiri in tutto, loro 12, però loro molti più tiri in porta di noi. Cosa gravissima, cosa gravissima che loro sul terzo gol, la punizione, quel fallo è inesistente, quindi l'arbitro di Udine, che non mi ricordo come si chiama, mi deve spiegare quel fallo. Quel fallo me lo deve spiegare sul terzo gol perché non c'è e non esiste proprio il fallo su quella palla lì. Poi loro indovinano la punizione del secolo con Calo, bravo lui, e questa è la sfortuna che c'è a Tanaglia perché ha fatto una punizione alla Roberto Baggio, però quel fallo non c'era. Quarto gol non si pensa nemmeno, devo dire che il cosenza dei giocatori è un po' come spesso succede nel calcio italiano, antisportivi, perché nel secondo tempo non si è giocato proprio a parte i primi 10 minuti, si è sempre stati fermi. L'espulsione di Bellomo non c'era assolutamente perché lo sfiora il giocatore. Solite perdite di tempo, tafferugge, battibecchi, piccoli risse che non fanno altro che fare il gioco di chi c'è risultato in mano e non del Bari, quindi dovrebbero essere evitati. Sui Cekvar non mi esprimo perché non si vedeva niente in aria, loro si sono proprio fatta sotto sul 2-1, Nasti non riesce mai a prendere pieni voti perché su quella palla Nasti la devi mettere dentro. Tiri sul primo palo dove il portiere già copriva, diventare sul secondo palo, il sinistro, eppure sai usare anche bene il sinistro. Si mangia il 2-2 Nasti, clavoroso, immischia pure, ci mangiava un altro gol. Cambio tutti sbagliati perché Dorval è un disastro, non riesce più a giocare, Moracchioli pure, bisogna tenere a ramo fino alla fine. Cambio sbagliato, mi dispiace, ma cambio sbagliato. Loro sono passati molto forti con i calci da fermo, hanno preparato i calci da fermo. Viali, un signore, devo dire, a differenza dei suoi giocatori che perdevano tempo in campo. Hanno fatto di modo affinché non si giocasse a secondo tempo. Viali, un signore, va a salutare tutti, dice essere ancora piangente in campo. Purtroppo ci piange il cuore a vedere un uomo, un giocatore che ha fatto tanto per il Bari e che non è stato ripagato dalla carriera. Non è ripagato dalla carriera. Adesso si va a Cittadella sabato prossimo. È un'altra partita difficile, però adesso. Adesso è difficilissimo perché l'Ascoli ha vinto a Terni. Ci sono quattro squadre in pochi punti. Di queste quattro squadre solo una si salverà. Delle altre tre, una va in eliminazione diretta, in recessione diretta, e due vanno a fare i play-out. Non lo so, può darsi che i Bari faccia i play-out. Vediamo, perché mancano tre partite. Credo Cittadella, Brescia e Parma, credo, se non sbaglio. Forse no, Parma, comunque Cittadella e Brescia sicuro. Niente, Nasti come al solito, mai avuto pieno, perché fa quel gol di Tappin, meno male. Però poi si mangia il 2-2, un gol fatto. Nella situazione in cui in Bari quelle palle vanno sfruttate a pieno, perché non ne arriveranno altre. Una sofferenza pazzesca. Non so, non so, non so che dire, nel senso, non so neanche come chiamarlo questo video. Sofferenza pazzesca, però, sa basta a dire, si soffre sempre col Bari, questo lo sappiamo. Niente, è arrivato proprio un ciclone dopo che è andato via Marino, ecco. Quindi andare, forse il Presidente va un po' su tutte le furie. Ora, vorrei, sotto proprio un punto, a voi che mi seguite, da molto tempo, perché sapete quanto mi stia a cuore il Bari, no? Cioè, io non vorrei che i giocatori stessero giocando contro la società a questo punto. Perché non me lo spiego, perché il Bari ha giocatori forti. Si è visto oggi che siamo più forti del Cosenza. Senza nessun dubbio, per chi vede calcio, c'è giocatori come Benali, Aramo, Sibili, Moracchioli, Nasti, sono più forti dei giocatori del Cosenza, che sono giocatori di Forte, Tutino, Marras, Calo, che comunque ha dimostrato tecnico, ma tolto Calo e Marras c'è poco altro. Non vorrei che questi giocatori stiano giocando un po' contro la società senza voglia, facendo il compitino, perché questa società si è comportata male sia con i vecchi giocatori del Bari, sia con i nuovi, perché ne avessi tutti impressi, andranno tutti via. Quindi non vorrei che siamo in questa situazione quasi di ammutinamento di molti calciatori del Bari contro una società che non sentono propria, che non è la propria. E quindi, perché questo si viene un po' in campo, non è possibile che ogni volta giochiamo e prendiamo conto dopo tre minuti, ragazzi. Non si è mai visto nel calcio. Anche chi segue il calcio da 150.000 anni, anche all'epoca delle retrocessioni, del calcio scommesse, delle partite vendute, dei fallimenti, non si è mai vista una roba del genere. Quindi non vorrei che ci fosse un po' di rammarico e, come dire, di piccola vendetta di alcuni giocatori contro la società, contro De Laurentiis, perché poi De Laurentiis, che secondo me è andato un po' in escandescenza e nel suo non saper valutare bene, suppongo e magari sa valutare bene sotto punito, non lo so. Comunque dalla società sono venuti i campi di allenatore, no? Cioè, poco d'anno, non lo dice i tifosi, non lo dice nessuno, non lo dice sulla società. Quindi togliere Marino, che aveva un po' capito l'ambiente, stava un po' lavorando sulla squadra, è stato un errore. È stato un errore. Anche perché Marino non aveva un passo da retrocessione. Iachini sì. Però Iachini speriamo che non sia stato troppo tardi. Perché oggi togliere Aramu, forse era un po' acciaccato, ma Aramu faceva la differenza in mezzo al campo. Lo dovevano per forza tranciare, altrimenti non c'era modo di giocarli contro. Non lo so, ragazzi. Il Bari va seguito sempre e ovunque, quindi non è questione di... Non è questione, però... Ricci, Maita. Ricci, Maita. Ricci, Maita, Benali. Maita, Benali. Ricci, Ricci, Maita. È dura andare avanti così, no? Iscrivetevi al canale. Fatemi sapere cosa ne pensate. Certo da Bellavì, sempre Forza Bari.